Grazie Presidente, ne approfitto per collegarmi anche io sulla questione, dato che noi abbiamo un delegato a Expo, ma abbiamo anche un membro del Consiglio di Amministrazione di Expo S.p.A. per il Comune di Milano, che ricordo essere sempre Giuseppe Sala. Quindi nelle funzioni di nostro rappresentante nella società Expo S.p.A. dovrebbe ovviamente fornirci questi dati. Mi duole dover parlare ancora di Via L'Argonne e di alberi, ci sono tante tematiche da toccare, ma viste gli aggiornamenti in Commissione, anch'io come Consigliere Cappato credevo che l'Assessore intendesse interrompere i lavori, almeno fino alla Commissione di mercoledì. Questo non è stato fatto, io sono stato circa 40 minuti fa in Via L'Argonne, le ruspe stanno iniziando a scavare attorno gli alberi e come ho già fatto in aula, metto a verbale che di fatto ci sono delle situazioni dove le prescrizioni della soprintendenza non sono rispettate, in particolare per quanto riguarda i blocchi in cemento armato sulle radici degli alberi e l'assenza delle protezioni attorno agli alberi stessi e che se non verranno sistemate questi problemi a breve, noi consegneremo nella giornata di domani un esposto alla Polizia locale e lo so che non è di interesse dell'Assessore, del Vice Sindaco, ma lo ripeto anche se non è attento, noi domani consegneremo un esposto, quindi è meglio che il Comune di Milano faccia spostare, no non c'è niente da fare, non gli interessa, non riuscirò a farmi ascoltare dal Vice Sindaco in questo intervento, ok ce l'ho fatta, noi domani consegneremo un esposto, quindi consiglio, non gli interessa? Non posso impedirle di andarsene, però consiglierei di rivolgersi alla Presidente che resta nel verbale, ma un po' di educazione, zero? Mi sono rivolto a lei per due minuti, ma parlando con un'altra persona mi sta ascoltando, vabbè, comunque Presidente mi rivolgo a lei, noi domani consegneremo un esposto, quindi invito l'assessorato che adesso finalmente mi ascolta a suggerire a Metro 4 di rispettare le prescrizioni della sovrintendenza, dato che il Comune di Milano tramite la Polizia Locale e io in qualità di pubblico ufficiale domani farò questo esposto, consiglio di avvisare prima la società in modo da evitare ulteriori dispendi di soldi. Grazie. No, scusate, ripeto, non è l'assessorato, non è di competenza nella divisione dei compiti, l'assessorato è l'assessorato di Maran, credo, per quanto riguarda questo lavoro. In ogni modo trasmetteremo l'assessore Maran questa domanda che mi ha ascoltato.